Grazie, buongiorno a tutti. Desidero ringraziare tutti i colleghi, quelli presenti in sala, quelli collegati con noi, le associazioni, i cittadini. Saluto e ringrazio il gran rabbino Pinchas Goldsmith, presidente della Conferenza dei Rabbini Europei, Ghiula Sarkozy, rappresentante della comunità Rom e gli artisti che sono presenti in Aue. Questa giornata ci ricorda che 70 anni fa si aprirono i cancelli del campo di Auschwitz-Birkenau e rivelarono al mondo l'orrore del genocidio nazista. Nonostante il tempo trascorso, ciò che si manifestò agli occhi dei testimoni è ancora presente davanti a noi, con il suo terribile impatto. Quello che è successo in quel campo, nei tanti campi di concentramento, in tutte le fabbriche della morte, disseminate nello spazio europeo, ci chiama alla responsabilità, ci impone l'obbligo di vigilare, di custodire la memoria, di tenere viva la memoria. Come è scritto Primo Levi, se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. Auschwitz ci ricorda ogni giorno, di quali nefandezze può essere capace il genere umano, se si lascia catturare dal fanatismo, dall'odio, dalla violenza, la stessa che ancora oggi si manifesta in tante parti del mondo, mettendo a rischio la pace, la civiltà, la convivenza. Perché Auschwitz non rappresenta soltanto la sintesi di un'ideologia folle e criminale, ma è anche simbolo del male assoluto, del complesso sistema di annientamento pensato e strutturato dall'ideologia nazista. Le loro persecuzioni erano finalizzate a realizzare una società basata su un nazionalismo esasperato, un virus che lo vediamo spesso ancora oggi, può ritornare e non possiamo mai dire che lo abbiamo sconfitto. Nel nuovo ordine immaginato dai nazisti non poteva esserci posto per la diversità, per il dialogo, per l'accettazione dell'altro, per il confronto. Essi desideravano una società senza ebrei, senza dissidenti politici, senza omosessuali, senza disabili mentali, senza prigionieri di guerra, senza testimoni di Geova, senza Roma, Sinti, Slavi. Ma soprattutto è sull'odio verso gli ebrei che si strutturò un vero e proprio sistema di annientamento. I campi di concentramento e le camere a gas furono l'estrema conseguenza di questo processo metodico che mirava a definire una gerarchia di razze umane, al fondo della quale erano collocati proprio gli ebrei. Fare memoria è quindi un dovere perché quanto è successo non possa accadere mai più, perché ci pone ancora una volta quella storia di fronte al lato più oscuro dell'umanità, alla perdita totale del sentimento più elementare della pietà. È nostro dovere quindi ricordare perché la realtà dei campi di concentramento va oltre l'umana comprensione. La seduzione ideologica deve essere non solo ricordata e condannata, e dobbiamo farlo senza più quasi la voce dei testimoni che l'hanno vissuta. Il volgere delle generazioni ci obbliga a guardare a quegli eventi con la forza della ragione senza più l'ausilio così prezioso di chi ha vissuto la devastazione, la ferocia e la forza seducente del demonio nazionalista e nazista. Ma dobbiamo anche ricordare che coloro che hanno vissuto quell'orrore ci hanno dato in custodia istituzioni che dobbiamo proteggere. La costruzione dell'Europa non è solo una straordinaria risposta politica agli orrori del nazismo, ma è anche uno dei motori fondamentali del progresso di integrazione tra i Paesi democratici. La nostra storia ci insegna che non sarà il nazionalismo di ritorno a proteggerci dalle nuove insidie, perché la sacralizzazione delle frontiere, così come la ricerca di un'identità pura e univoca, non farà altro che produrre nuovi nemici. L'Europa stessa è nata nel segno dell'apertura, della cooperazione, della consapevolezza di un destino comune. È nata da una grande visione, da un ideale coraggioso, che solo poteva trarre forza da una tragedia, così immane come quella provocata dalla Seconda Guerra Mondiale e dal folle disegno nazista. Per questo tutti noi europei dobbiamo vivere la responsabilità di quella custodia, la custodia della democrazia e dell'Europa libera, perché l'Europa è l'unica realtà che può consentirci di riscoprire quella vocazione che ci ha portato a costruire uno spazio di democrazia in cui il diritto è il termine di riferimento con cui noi regoliamo i rapporti fra i nostri Stati membri, il rapporto fra le istituzioni e i cittadini e domani con quegli Stati che aspirano a vivere con noi. Come sapete stiamo vivendo un tempo di grandi cambiamenti. In questi mesi così difficili abbiamo imparato a rimettere a posto alcuni valori, a comprendere il senso della nostra interdipendenza. Ecco perché l'Europa è quanto mai utile al mondo di oggi e le trasformazioni in atto offrono opportune e straordinarie opportunità che dobbiamo saper utilizzare per migliorare la qualità della nostra vita, per correggere lo sviluppo dell'economia e della società nel senso della sostenibilità sociale, ambientale, per ridurre le distanze e le disuguaglianze. E questo è il lavoro straordinario che sta facendo il Parlamento europeo. Oggi più che mai dobbiamo quindi agire insieme, proteggere la nostra coesione, cioè il contesto nel quale intere generazioni hanno fatto esperienza di pace e hanno saputo costruire un modello che per una lunga stagione ha favorito benessere, crescita, diritti. Perché la pace, la solidarietà, la reciproca comprensione sono moltiplicatori di benessere e anche di sicurezza. Ma tutto questo è possibile solo con una società viva, plurale, sorretta da principi di umanità, non una società di monadi separati, ma di solide interrelazioni. La giornata della memoria non è solo una ricorrenza, ma è soprattutto un invito alla vigilanza, alla responsabilità, al coraggio. Per impedire negazionismi e amnesie dobbiamo sentire tutti l'impegno per una vigile coscienza storica, capace non solo di rendere testimonianza, ma anche di capire, prevenire, intervenire ogni qualvolta si diffondono i semi del male assoluto. Un modo per ricordare, ma anche per onorare, il sacrificio di chi ha perso la vita, di chi ha lottato per un mondo migliore, difendendo i valori di libertà e di giustizia. Vi ringrazio. Grazie a tutti.